Allora Marco, non ci vediamo quasi da un anno, in questo anno l'evoluzione del Digifast è andata avanti da quello che ho visto con delle novità molto interessanti rispetto a quello che c'eravamo detti l'anno scorso. Cosa è successo in questi mesi? Eh beh, il tempo non è mancato per fare lo sviluppo, diciamo che abbiamo affinato e completato il discorso dell'input e poi si continua sempre a migliorare, quindi a rendere la nostra soluzione sempre più simile a un normale apparecchio consumer, quindi si va avanti nello sviluppo, abbiamo rifatto l'audio engine, migliorato tante cosette qua e là, adesso stiamo uscendo con un input HDMI più potente ma con un solo ingresso e che quindi costa decisamente meno, ecco noi siamo sensibili alle richieste dei clienti, per molti il prezzo della soluzione a quattro ingressi era troppo caro e allora abbiamo fatto un passo indietro e riproponiamo anche la soluzione più semplice. Senti, oltre a questo nuovo ingresso c'è anche, ho visto che avete trovato anche delle schede grafiche potenti con un ottimo rapporto di cui da prezzo. Mi puoi dire qualcosa di più su queste nuove schede? Sì, compatibilmente con il discorso della disponibilità e dei prezzi delle schede video, che tutti sanno che erano andati alle stelle, finalmente continuano a scendere, quindi c'è una scheda economica ma più moderna della AMD, che ci permette di ritornare di nuovo al prezzo precedente che eravamo stati costretti a ritoccare. Poi invece facciamo il salto direttamente in fascia alta con l'RX 6900 XT, che presto sarà addirittura rinfrescata anch'essa prima dell'uscita di un'ulteriore serie più potente, che permette di fare dei processamenti ancora più pesanti e anche in 4K, quindi si ottiene veramente una resa eccezionale, direi. Ma oggi il prezzo di un DigiFast base, come quello che ho io, quindi senza l'ingresso video, qual è? Dunque, il prezzo base possiamo riportarlo ai 3.000 euro, eravamo saliti a 3.200 euro, quindi ritorniamo ai 3.000 e adesso nell'offerta primaverile, di cui avete già fatto il focus, su AV Magazine, riusciamo a offrirlo a 2.900 euro per un periodo limitato. Adesso non so dire esattamente quanto, ma penso un paio di mesi riusciamo a tirarlo. E invece per chi vuole anche l'ingresso video? Per chi vuole anche l'ingresso video, quindi su una macchina nuova, c'è questa soluzione mono ingresso, che si chiama Streaming Edition Lite, che costerà 3.800 euro. Quindi praticamente solo 800 euro in più. Esatto, è un grosso sforzo che facciamo, proprio per venire incontro. C'è proprio un'utenza che ritiene che sia estremamente necessario, ormai si va verso lo streaming, e quindi noi veniamo incontro anche a questa esigenza per chi vuole spendere il meno possibile, anche se poi la resa non è per niente male, anzi. Questo ingresso video può essere acquistato da chi ha già il Digifast, anche la versione precedente? Per chi ha già acquistato il Digifast, siccome ci sono delle ulteriori spese per l'espansione, che va valutato l'hardware, ovviamente essendo dieci anni che vendiamo il Digifast, abbiamo diverse versioni, e quindi sarebbe veramente troppo, non riusciamo a stare dietro, e quindi vendiamo solo come upgrade la versione full, a quattro ingressi. Ecco, per il momento questa è la nostra scelta. Senti invece, dimmi qualcosa di più su questo nuovo audio engine che è stato... Ecco, qua sarebbe bello chiederlo a Marco Cavallaro, che è lui, diciamo, l'artefice di tutta questa sezione, ecco, però posso dire che tutti i discorsi di correzione, anche i più sofisticati, quindi non so, anche il Dirac, tanto per fare un esempio, ci si scontra spesso e volentieri con problemi di dinamica, no? Perché per correggere bisogna scendere, ecco. E Marco, essendo ormai diventato anche un calibratore, sia audio che video, oltre al Digifast, che continua a seguire e sviluppare insieme a me, ha avuto modo di provare tantissime soluzioni, girando dai clienti e usando gli impianti più disparati, dai più economici ai più costosi, no? E quindi ha potuto toccare con mano, in modo realistico, la situazione. Ecco quindi che è stato rifatto completamente, riscritto completamente, e abbiamo eliminato completamente il discorso del rischio di saturazione, e quindi riusciamo a gestire veramente, praticamente, la stessa dinamica che non correggendo, e quindi è un bel passo avanti anche questo. Questo è molto interessante, a questo punto dobbiamo organizzarci, Marco, perché io ho bisogno di venire con voi, in una delle installazioni, oppure vi tocca tornare a Teramo, prima possibile, per fare un upgrade al mio Digifast, e magari seguire in quell'occasione tutte le fasi di installazione, e di calibrazione, che ne dici? Sicuramente. Ti ho fregato, vedi? Ah, poi un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dire, poi abbiamo il night mode, perché c'è tanta gente che vive in condominio, non solo ad orari notturni, ma anche durante il giorno, non può sfondare le pareti, se no avrebbe problemi con i condomini vicino, e quindi abbiamo sviluppato un loudness particolarmente valido, che permette di ascoltare veramente bene, senza far crollare le pareti. Quindi stavano di un loudness con compressione dinamica intelligente. Esatto, esatto, fatto in modo particolare, proprio tagliato ad arte per l'uso cinematografico. Poi un'altra chicca, Marco ha fatto delle esperienze con l'Auro 3D, che è stato molto lasciato da parte, persino DTS-X è sparito, e ha avuto modo di vedere che la virtualizzazione del suono 3D viene fatto in modo veramente eccellente, spesso e volentieri da non far rimpiangere neanche una traccia atmos nativa. E anche questa è una cosetta interessante. Assolutamente sì. Marco, ti ringrazio per il tuo approfondimento, a questo punto sei invitato a te, ma prima possibile. Grazie. Quando tornerai, noi ti aspettiamo, io e Franco, per questo upgrade e per seguire veramente un'installazione dall'inizio alla fine, ok? Grazie a te, Emilio.